Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in questo nuovo video Allora, nel video di oggi andiamo a fare un piccolo haul, diciamo, di alcune cosine che abbiamo preso sempre per il B&B E niente, io questi video li faccio perché comunque penso che è carino vedere gli acquisti Ecco, mi piace molto vedere questo genere di video Ovviamente non è l'unico argomento del mio canale Semplicemente mi ci ritrovo, ecco, ma perché mi sto rendendo conto che ultimamente sto facendo un sacco di questi video così Però, ecco, a me piacciono e penso anche a voi perché lo vedo, insomma, dalle analitiche, da quello che vi dite nei commenti Quindi, ecco, piccola parentesi perché, insomma, non vorrei che magari qualcuno pensasse che porto solo questo tipo di video Comunque, prima di cominciare, voglio bere insieme a voi questo succo qua Questo però fatto vedere anche nello suo da spesa Ci lo farò È delizioso Io lo amo Questi li trovate a Lidl Se vi interessa È proprio rinfrescante Dissetante Se li mettete in prego è ancora meglio Molto bene Ciò che ci sono Ne faccio anche due diretti di questa Questa non vi piace Mi è stata comprata a bisbaglio Però non mi piace Fatto Molto bene Allora, questa spesa è stata fatta da Cadiz Più c'è una cosa In realtà c'era anche un'altra busta Ma essendo che vi avevo già fatto il video su La spesa è stata fatta da Cadiz Di quell'altra busta Non vi faccio vedere le cose Perché abbiamo semplicemente ricoprato Altra biancheria Uguale a quella che già avevamo Perché serviva per ogni Diciamo Componente Insomma per ogni Persona che Alloggerà Serve un Tipo di biancheria Insomma personale Per ora Ecco Avete capito Come sempre Un gran cantissimo Qua Intravedete Da questa parte Il mio best friend Che l'ho comprato l'anno scorso Si chiama Olimpia Splendid Qualcosa E praticamente Ci sono le cose di ghiaccio Che tu puoi mettere Nel serbatoio E Normalmente Fa aria A tre età C'è un po' Molto carino Farò molto Fiera di questo mio Questo che vedi E praticamente Con questo ghiaccio Ti sparo l'aria gelata È fantastico Comunque Direi di partire Allora Ovviamente Mancavano anche Le cose Diciamo Non solo di biancheria Quindi A parte tutti i detersivi Che poi vi faccio vedere Anche le cose Per la cucina Diciamo E Niente Allora Gli straccetti Questi sono Trofinaggi Ave tre pezzi E abbiamo Questo Con la caffettiera Molto bello Il cupcake Ed è rosso Poi Abbiamo Vediamo Questo Che ha sempre Il cupcake Insomma La fantasia È sempre la stessa Cambia soltanto Il colore Ecco qua E poi E poi Abbiamo Sempre Diciamo La stessa Fantasia Nuovamente Ma In arancione Molto carino Proprio da cucina Quindi Ci sta Come vedete 100% cotone Proprio da cucina La carta La carta Da forno Questa penso Che è per casa Quindi non perdirà Perché ci mancava E Niente Queste nuove In realtà Naturali In fogli Non le avevamo mai Impresa E Niente Buona Saperti Che è naturale E Ci mancava Infatti Ho delle cose Buonissime Di patate Che ho comprato Surgitate E non Le avevo ancora fatte Perché non potevo Metterle in forno Anzi Vi correcco Le avevo fatte in padella Ma le soluzioni Per la padella Non c'erano Il che Non mi ha fatto pensare Che potevano Essere utilizzate Solo in forno Quindi l'ho fatto Lo stesso Non vi dico Il disastro Putato io tutto Comunque Molto buone Quelle a farina Non vedo l'ora Di prepararle Poi Questo Che è il Mojo Ottimo Per pulire Qualsiasi tipo Di superficie Anche senza Didergente Efficace Sia da bagnato Che da asciutto Pulisce Anzi Allora Vabbè È della marca Curtis Insomma Mai provato Pulisce Asciuga In poche passate Vedremo Insomma È uno straggio Insomma Normale Ecco 100% Microfibra Dice Poi Questi qua Sempre Della marca Curtis Che sono Gli assorbicolore Per la lavatrice Top Anche su questi Insomma Niente da dire Questi li abbiamo Già presi Variate volte Comunque Sono buoni E non costano Tantissimo Quindi Buoni Comunque Va nel loro Tuvere Ecco Poi Mi sono accorta Anche una busta Di mestoli E utensili Per la cucina Ma non c'è più Quindi da questo Ritupo Che mia sorella Nelle ore più calde Del pomeriggio In cui Io ho riposato Aspettando di fare Questo video Si è andata A mettere le cose Diciamo Alla casa E quindi Non Non ve le posso Far vedere Comunque Le vedrete Nell'home tour Perché Ve lo farò La casa È venita Quindi se vi fa piacere Ve lo faccio vedere Poi Abbiamo preso Questo qua Sarà Per i vetri Con ammoniaca Senza l'unasciuga Subito E sgrassi Questi ovviamente Sono i prodotti Per mettere di là Quindi Per utilizzare Per le pulizie Di là Ecco Questo qua Oddio Quasi care Questo tipo di quasar Con ammoniaca Mai provato Io sono là È solo il quasar Normale Ve li vedete E mi ci trovo benissimo Questo mai provato Quindi non Non so dirvi com'è Poi Intanto Succhino E proseguiamo Bello Questo non l'avevo visto Allora Questa è l'Ajax Formato Stramega gigante E voglio sentire In diretta L'odore Perché io Sono ossessionata L'Ajax Mi piace Tutti i ritersivi L'Ajax Ma quello Per il bagno Mi ho breve Buonissimo First reaction Io adoro Un fatto bizzarro Che quando io ero incinta Ero ossessionata Dal sapone Dal detersivo Per i piatti In particolare Il sapone Verso lì E della lì Della al limone Stavo tutto il giorno Così A sniffarlo E finché un giorno È finita male Perché L'ho voluto mangiare Cioè Donna in graviranza Capitemi Quelle foglie Che ti vengono Proprio da dentro E io mi sono mangiata Il detersivo Però ovviamente Poi Mi ha bruciato la lingua E quindi L'ho sputato Però l'intenzione C'era E quindi Questo per dire Che Sono abbastanza Ossessionata Insomma Dalle profumazioni Dei detersivi E questo è delizioso Perché sa di pulito Sa di fresco Ma Ha quel Quell'odore Insomma Potente Di detersivo Comunque Comunque Ajax Non delude mai Poi Questi sono stati Ci siamo Alcuni Detersivi Ora vi mostro Abbiamo Il bril Per la Pallatutto Abbiamo il bril Per la Lava stoviglie Questo anche Per la Lava stoviglie Perché c'è Anche la Lava stoviglie Il bril Qua a casa Lo utilizziamo Non questo Qua dice Extra poterice Ne stoviglie E filter Con bicarbonato Quindi insomma Una versione a me Sconosciuta Ma vi farò sapere Com'è O comunque Non lo so Se ve lo farò sapere Fatemelo sapere voi Se lo utilizzate Perché non è per casa Quindi Non Non so Darvi Una Una Ricensione Ecco E ecco Questo è il bril Poi Non sponsor Da Katis Ma Tutto Katis Vabbè Allora Questo è il curo Lava stoviglie Se non sbaglio Sì Guardate Che caruccio Ecco Ssegherato E poi Si unisce Anche di questo Ovviamente Voglio Adorarlo Ha un 830 Detersivo Ma non mi piace Però vabbè Tanto deve curare Soltanto la nostra Lavastoviglie Poi Passiamo Troviamo 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 Che l'ace Per i pavimenti Non so Perché l'hanno Preso Dobbio Penso Che uno Serva Per casa Ah beh Allora Io mi tengo Io mi tengo La Youngs Cioè Palese Che me lo tengo E questo Lo lasceremo Di là Allora Questo Non capisco Perché è stato Ricomprato Perché Queste cose Le ha scelte A mia sorella E questo L'abbiamo avuto Per un bel po' Di mesi A casa Finalmente L'avevo terminato E me lo ritrovo Qua Pusa Di Fiore marcio A me non piace Che è Talco Musco bianco Ah ok Vabbè Giustificato A me il muschio bianco Non piace Comunque Fa ridere Perché me ne ero liberata E Eccolo qua Ma c'è letteralmente Pochissimo tempo fa Mi sono liberata Cioè Lo mettevo un sacco Pur di finirlo E eccolo qua Yo Grazie Katia Basta Lo soltanto riempito Di schiuma Perché pensavo Facesse un suono Più Cradevole Invece Niente Bene Poi Ultime due cosette Qua c'è Il Brillasciugati Finish Questo un po' Di suono lo fa Anche qua Sentiamo L'odore Non ci siamo affatto Questo Sa di vino Vill Ma tanto Ripeto Non ci serve Sapere la profumazione Perché comunque Ti rimborsiamo un euro Chissà se è vero Vabbè Comunque Ecco Questo serve Sempre per la Lavastoviglie E Fa venire i bicchieri Senza gli aloni Perché chi ha la lavastoviglie Saprà bene Che i bicchieri Lavastoviglie L'amore dei loro Si rovinano un sacco E restano bruttini Comunque Questo serve Poi Bevo Sempre un po' Di succo Io con questo succo Sono tipo Cammello Aspirapolvere Mi piace un po' Perché non è dolce Come gli altri Quindi È stupevole Ma è proprio Delizioso Allora Già che ci sono Vi faccio vedere Anche Una cosina Che mi è arrivata Da Shane Che serve per pulire La macchina Ma non credo Che ci pulirò mai La macchina Ma lo userò Per i video Ve lo faccio vedere Subito Anzi Prima vi faccio vedere L'ultimo prodotto Qua E poi vi faccio vedere L'altro Ah eccolo Abbiamo sempre Un brillo Ok Quindi questa spesa È mischiata Un po' Per il b&b Un po' Per casa Questo è quello Che utilizziamo noi E anche qua Ovviamente Vuoi sentire l'odore Questo è proprio Nessuccoso Ok E quindi Mi piace Si sente molto Il limone E a parte che Vabbè Questi dell'April Sono tutti funzionanti E Sono tutti molto Inficaci A me piace molto Questo suono Di stick Tipo E ecco Quindi Ora Faccio Un po' Due tiri Con questa E' tantissimo Amici Ho finito Questo video Perché mi sto portando Un po' avanti Questo è il secondo Che registro oggi E se riesco Ne farò anche Un terzo Un quarto Insomma Ma quanti più Ne posso fare Perché Non è che ho sempre Tanto tempo Come si è detto Sto studiando Per fare un esame Insomma Se volete vi spiegherò Magari una volta matto Perché sono un po' Scramatica E non mi fa Di stare A parlare Cose Prima Che avvenga Tutto Tutto il dunque Quindi Sicuramente Più avanti A cose fatte Vi racconterò Della mia Situazione Scolastica E Ecco Ecco Ora Sono impegnata In questo La sera Studio E quindi Solitamente Facevo i video La sera Però La sera Ho già Quest'altro Appuntamento Con lo studio Quindi non posso fare video Quindi li faccio Di pomeriggio Comunque Vabbè Oggi tanto bene Questo pomeriggio Non c'è la mia figlia Che è andata Con la mia migliore amica A casa sua Vive qua Due minuti La casa mia E Insomma Non si stanno divertendo molto Ci sono messi Lo smalto E eccetera E dovrebbero venire Qua da me Arrivata Katia l'intrusa Che Non sono Namiche E quindi Si è messa qua Sul mio letto Vabbè Sta come una lontra Con questi piedi Su unici Sul mio letto Vabbè E Ah no Aspetta E' questo Che praticamente Si mette dentro I buchetti Della macchina Non lo Ah Katia Guarda anche tu Questo E' un acquisto Te lo spiego anche a te In diretta Serve per voi La macchina Oddio Che spettacolo Con questo Ciao E' praticamente Tipo Questa Gel Gelatina Così Non è La consistenza Dello slime Però Ci piace E vabbè Comunque Non lo so Se lo utilizzerò Per la macchina Comunque Si mette dentro Tipo Le bocchette Dell'aria Così E prende La polvere Comunque Non puzza Il che è molto buono Basta Bene E Ah Un'altra cosa Però Sto aspettando Che mi arrivano Gli anelli Di Temun Sono arrivate Un sacco di collane Tra cui anche Questa Che vabbè Si vede male Che comunque Per essere Di Shane Alcune Non tutte Cioè Ci stanno Alcune cose Proprio Super Fake Bruttissime Non le metterò Mai Però Questa Mi è piaciuta E Niente Vi faccio vedere Tutte le cose I gioiellini Quando mi arrivano Anche quelli Diamo che sono Un sacco di Anelli Molto belli E basta Io sto Sentendo molto caldo Lo ammetto E avere Katia In questo letto Che mi fissa Non è molto Bello Però vabbè E quindi Niente Amici Io ho terminato Spero che questo video Vi sia piaciuto E ci vediamo Nel prossimo Ti mando un bacio Ciao Ciao Grazie.